www.samurai.com Testiamo subito la Samurai che mi è stata regalata, grazie, non posso fare il nome, però me l'hanno regalata, e invece ho anche un'altra auto che non vi spoilerò che auto è, farò anche il tutorial di quella, e ovviamente la Octane che è la principale, se non faccio il tutorial di quello che uomo sono, quindi concentriamoci, vediamo un pochino i difetti, i pregi e i difetti. Ok, questo è forte, perc di avle, perc di avle, se mi frega i titi massacro, perché, perché, ma chi è sto qui mo? La bestia la fai a casa, bello, what do you mean, bro? Oh, man, fuck Eh, what the hell, man, bro, fuck, do the pump, bitch What I do, the pump Oh, man What they're doing, Francesco ok man what they're doing boh destruction proviamo un atto di freestyle no non la faccio il freestyle non vorrei che ecco perché faccio lo scarso non mi ricordo che facendo lo scarso non concludo una ceppa e lo continuo a fare non so perché ho detto lo continuo a fare invece di lo continuo a fare ma i ttdk sono questi ok dire di andarmene questo non penso che mi aspetta a me quindi partiamo andiamo in porta lo aspettiamo ben benino ok questo mi fa fare il trick dal muro? no ok buona ok questo è un guadaglio problem oh man bro ci siamo ci siamo daie daie continuiamo così continuiamo sgheri sgheri gen 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 andiamo subito a shit no raga questo ho fatto un brutto fail se 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 mo chiedi troppo what a dude pamp bitch no 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 let's go my double pamp let's go let's go what the fuck what the fuck what the fuck what the hell man porco diavolen porco diavolen porco diavolen oh porco diavolen pushiamola distruggiamola questo qui mi sta già sulle palle oh oh cuore i trick mi spari tua madre tua madre sotto i gazebi non ci credo non ci credo raga sono stupido perché poi lui non è che scherza però porca troia raga i osseri problem io addio scusatemi raga prendo questa parte la censura ma dai voglio fare bestemmiare questo porco disco scusatemi 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 perdonatemi eh sì bravo ti ce la puoi sentire non ci credo raga cioè non ci posso credere quando sono scarso da 1 a 9 9 cioè raga c'ho sbagliatini questo qui non mi fa ancora il dip ma va a fangulo va va a fangulo non ci credo raga però sono scarso mignone sono scarso no non mi piace stavuto non mi piace non mi piace stavuto chi la vuole l'offro a 19 euro giustamente 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 la palla chi la deve prendere mi pare giusto ti capisco ti capisco gioco di merda quindi ah ah god e la puzza mi sta cominciando a stare sulle palle sto gioco oh ah man what are you doing si ancora boost c'è va questo ma va a fangulo va gioco di merda si si vabbè raga non mi piace non mi piace la samurai penso che penso che glielo d d p penso che gliela d d d p penso che gliela d d p p p scherzo no va bene ragazzi dire che la samurai figa è figa Allora estetica voto 9 Però sto giocando proprio di merda Voto 9 ed estetica Poi estetica 9 Che posso dire più Di freestyle 4 4 di freestyle 4 raga Di freestyle 4 raga Perché mi sta facendo proprio schifo 4 di freestyle Ok ma non so forse ho beccato il più forte Nel mondo però non me ne fotte Io da questa macchina mi aspettavo Troppo invece mi do niente Io mi vergogno No raga io basta Non gioco più 9 a 2 9 a 2 ma di che stiamo parlando Ma grazie a tua madre Allora se la para gli do 8 Ok 8 Quindi 8 di parata Freestyle 4 Che c'è più Estetica 9 Di 8 diviso 4 diviso 9 Uguale per 2 diviso per 2 Diviso di radice di 9 è 2 42 diviso 10 62 diviso 9 Porco disco diviso 10 Porco a bordo piscina Sì pure un altro vai Sì sì Ah Sì sì Va bene Quindi ragazzi questo è il Che c'è più